Più empatici i bambini a contatto con coetanei diversamente abili la ricerca dell'Università di Modena Reggio in una scuola con telecamera. Capire il livello di pregiudizio nei confronti della diversità è quello che ha fatto l'Università di Modena Reggio Emilia attraverso una ricerca con tecnologie speciali. Ce ne parla Nelson Bova. In questo video si vedono due bimbi che stanno giocando in una zona, in questo momento stanno giocando separatamente, si vede anche una certa distanza. Lo studio, l'Università di Modena Reggio Emilia lo ha fatto sui 250 bambini delle scuole primarie Pertini di Carpi tra i quali ci sono 13 coetanei con disabilità con un software progettato dalla Facoltà di Ingegneria e con telecamere particolari. Telecamere con anche la profondità come quella che si vede qui che è ben nota a tutti i bimbi perché è il Kinect con cui si fanno anche i videogiochi. In questo caso tutti i giunti del corpo del bimbo di sinistra sono collegati con il baricentro del corpo del bimbo di destra e in questo modo si può vedere tutta l'azione e l'interazione non soltanto come semplice distanza del baricentro dei bambini ma la distanza delle mani, della testa, del corpo e quindi avere un'informazione del volume occupato e dell'interazione tra questi. L'obiettivo per il professor Loris Vezzali della Facoltà di Psicologia Sociale dell'Ateneo Emiliano era interpretare il comportamento e il linguaggio non verbale che esprime il pregiudizio nei confronti della disabilità con dati oggettivi e misurabili. Abbiamo osservato per esempio che i bambini dalla prima alla terza sottoposti al trattamento immaginativo stavano molto più vicini al compagno disabile rispetto a quelli che non erano stati sottoposti a queste attività immaginative. La distanza interpersonale è un indice molto importante in psicologia, indica vicinanza, indica accettazione. Per le scuole primarie Pertini di Carpi non è la prima volta che accettano di diventare oggetto di studio. Nella ricerca dello scorso anno vantaggi e svantaggi nella interazione con studenti stranieri. Abbiamo visto come lavorare sulla diversità fa sì che anche abbiamo un miglioramento nel pensiero divergente del bambino. Un bambino che ha contatto con bambini diversi da sé migliora la sua creatività.